Cari amiche, cari amici, non ce la faccio a regalarvi otto video oggi, mannaggia, sono finiti i tempi d'oro. Allora, cosa guardiamo qua? Io oggi ho ricevuto un omaggio da una cara partecipante, a quale voglio già un sacco di bene. Un pochettino carino a fine incontro, ma guardate, ma che bei momenti. Ci siamo poi anche intrattenuti a parlare sotto la pioggia, manco a dirlo, ma chi se ne importa? Quando ci sono degli argomenti che appassionano, pioggia, vento, no scherzo, meno male non c'era il vento, se no c'era la pioggia, ma quella non è mancata oggi. Ma insomma, ho ricevuto questo pacchettino con una cosina morbida vellutata, le tue mani, sarà ben destinata. Adesso non mi ricordo le parole precise perché poi sono andata in confusione, non mi aspettavo una cosa così carina, un pensiero così carino, un malabrigo così carino, colore. Allora, lui si chiama, ora ve lo dico, sapete che sono tutte mattassine, sono di tinte a mano. Vengono venduti in mazzetti da cinque pezzi, quello è, quelli sono. Lui si chiama lettuce, credo che voglia dire qualcosa di verdurosa, non so se è lattuga. Malabrigo lace, 100% baby merino, 50 grammi e abbiamo, quanti metri? Ci sono 470 yard, non so i metri, non ci mettono anche i metri stavolta? A volte lo mettono anche i metri, vediamo un po' qua. Vediamo, qui non ce lo mettono, fate un po' i calcoli dei yards, quanto sono, sono stanca, si sente che sono ciopà. Ma sono beccetta ormai, oh, non riesco a girare sto coso e vieni qua. Ah, no, dietro c'è scritto, ma vabbè c'è il nome, il codice qua del Trespolino. Carino, sono contenta. Allora sapete cosa faccio? Metto tutto in stand by, tutti i miei 10.800 cantieri, il calzino, i calzettoni, le fasce le comincio domani, che vado a ritirarmi il pattern stampato perché io sennò divento matta. Ah, non sapete? Eh, devo fare le fasce natalizie alle mie ragazze di casa, beh. E allora ho trovato su Raverly una cosa molto bella a crochet, è mai presa, mai ripreso il crochet. Allora, adesso di pano comincio, poi metto in stand by perché ho delle cose da fare, però almeno lo comincio e onoro questo omaggio inaspettato, assolutamente gradito. L'ho preso subito e l'ho nascosto e ho detto, quello che hai dato è dato, eh. Io non rendo più, ripensamenti non ne accetto. Che bel momento. Guardi, io sono ghiotta, ma ghiotta, sono proprio ghiotta di tutto, proprio il cibo buono e profumo. Ma i filati, signori miei, posso far posto, butto via un paio di scarpe, non lo so, se serve spazio. No, beh, sotto al letto ce ne sta ancora. Ma a parte che c'è lo studio che sta diventando un magazzino. Devo ancora finire di sistemare e l'otto arriva al parentame. Aiuto, arrivano un sacco di ragazze in questa casa. Allora, adesso cosa faccio? Di pano comincio. Poi c'è il nuovo podcast di Max Nick de Crochet che l'ho già salutato. Oh, l'ho visto, ho già fatto il mio ciao pubblico. E così dopo, mentre faccio il mio crochet, quando ho capito quello che devo fare senza dover seguire lo schema, bene, mi vado a sentire il Max. E poi mi faccio fare compagnia, mentre sto qua vicino alla stufa che sto facendo. La fondo stasera, guardate. Io quando sono stanca, sfinita, ho bisogno di tanto calore, anche umano, ma soprattutto il calore dei miei animaletti. Adesso c'è l'Orestre che dorme quasi a testa in giù nella poltroncina gemella. Questa, la minuscola rosicchia, ma è una baiosa. È una baiosa. È pronta la mia camomilla. Ci metto un ciccinino di miele. Ci spruzzo un pochino di limone. E mi riposo, mi rilasso di pano, che mi piace un sacco. La Paola oggi mi ha dipanato. Una matassa di cashewol. Ah, ce l'aveva, guardate. Quel gomitolo sulla destra, quello bello rotondo, è perfetto. È perfetto, né teso né mollo. E poi giri brevi, così non si sfa tutto. Che brava che è la mia Paola. Che carino. Sono andata a trovarla subito, appena arrivata a casa. Tanto il minuto deve fare due passi. Quindi auguro a tutti di stare bene. Io sono contentissima della giornata di oggi. Sono sfinitissima, perché ormai sono vecchietta, c'è poco da fare. Ma sapete che mi sento proprio... Sciopà! 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 E vabbè. Però ho visto cose belle. Sono tornata a vedermi la vetrina di Max... Sì, di Max, scusami, Max di... Sì, di Max... Max Mara Weekend. Adesso pensavo a Max Nick in Crochet, che ha una bella chiacchiera, che mi vado a gustare tra pochino. È bella, 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 variopinta, bella. Poi voglio fare delle foto a un negozio chic di Viterbo, che ha fatto delle vetrine bellissime. Ma io ho guardato la qualità, tra l'altro, di quello esposto. Al di là dei tagli, dei modelli, dei colori incantevoli. Con un gusto, un'eleganza... Ma che meraviglia! Ma la qualità dei materiali... È un negozio uomo-donna, con abiti anche da gran sera. C'erano due abiti da gran sera per signora. Uno spettacolo, veramente. Veramente bella, 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 bella. Ma è bella Viterbo in questi giorni. Peccato questa pioggia malefica. C'erano pure delle turiste. C'erano anche i Boy Scout in giro sotto l'aigua. Come dite dalle vostre parti? Acqua. Noi diciamo aigua, aigua, aigua. Dipende un po' dal... Anche dal quartiere spezzino, che cambia un po' la pronuncia. Poi noi spezzi abbiamo un dialetto un po' imbastardito. I vecchi hanno ancora la parlata un po'... Ma vecchi, vecchi. Più vecchi dei miei. Perché in casa nostra nessuno parla il dialetto. Hanno un po' la cadenza ligure. Quindi... Verso la costa, verso Portovenere, risalendo la costa. Insomma, nelle Cinque Terre si sente parlare il ligure. Ma lo spezzino ormai è un po' imbastardito. È una via di mezzo tra il Massese e il Carrarino. Non ha nessun suono aspirato, ma non è più... Non ha quasi più niente di ligure. È un po' gnecco, è un po' lenta la parlata spezzina. Eh, ma si riconosce. Bene, adesso che ci ho messo un po' del mio, questa cosa qua, vi auguro buonanotte. Eh, state bene. Io aspetterò mezzanotte e cinque minuti per aprire lo scatolino numero quattro. Che bello, ho sentito, è pesante. Sono curiosa. Ma che bello, che bello questo calendario. Ma tutti i calendari dell'avvento che mi ha fatto Camilla da quando abito qua. Ormai è una bella tradizione davvero, eh. Me li ha fatti tutti carini. Ma tutti diversi, tutti carini. E questo è proprio incredibile. Bello, 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 bello e ghiotto. Ma voi li fate gli alberi? Sì, gli alberi. Dico albero perché è diventato un albero il mio calendario dell'avvento. Ma voi li fate i calendari dell'avvento? Io ce l'ho qua. Dico, adesso ne faccio uno bellissimo a Camilla. Lo faccio a maglia, lo faccio a croccire. E poi alla fine non faccio mai niente. Meno male che ci pensa lei. Che io sono proprio una madre scinnaturata, eh.